Ci adorano, veramente ci amano perché c'era il rapporto con il tedesco, il tedesco era un fedente, noi spessavamo la caletta e andavamo al bambino a mangiare, ecco perché i russi qua è per noi, carasciocchi, italiani, carasciocchi, bene, bravi, bravi ragazzi, sono partiti in 450.000, sono tornati in 200.000, erano degli eroi, onore ai caduti. Raffaele Pisu, come si potrebbe definire? No no, è stupendo, stupendo, no no, io sono stata molto felice di fare questo film con loro.